Scusi buon uomo, mi sa dire l'ora per favore? E' 5.35 Ma è sicuro? E' 36 mo Grazie Ha mangiato il ciuchino, eh? E no? Senta, mi sa dire che ora sono adesso? Androrta Le 7 e un quarto E' un'altra Ma sono le 7 e un quarto a spaccare Incredibile Ma lei come fa a leggere l'ora nelle palle del ciuchino, scusi? No, io le arzo Sotto c'è il campanile, vedi? Sì, vedi? 7 e un quarto Il giorno Sotto c'è l'ora Grazie a tutti.